Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo all'easy anti cheat che non è installato sul tuo computer. Quindi in questo caso è proprio un metodo, proprio un nuovo metodo su come installare l'easy anti cheat automaticamente. Quindi in questo caso nel mio server discord e in privato mi hanno mandato così questo errore all'avvio dell'easy anti cheat non installato. Quindi ho pensato di realizzare qualche guida per vedere se riusciamo a risolvere il problema perché a me fortnite non ha problemi dell'easy anti cheat. Quindi sia questo metodo più quello di epic games come puoi vedere se vado direttamente qua sopra a scrivere come posso installare easy anti cheat sul computer per giocare a fortnite. Queste sono tutte le istruzioni da seguire per installare l'easy anti cheat. Per chi non riesce a capire le istruzioni andiamo direttamente sul nostro epic games e facciamo sì. Ovviamente per fare tutta questa procedura poi dobbiamo chiudere epic games. Quindi Vado nella libreria vado direttamente a prendere fortnite tre puntini gestisci ed entro così nella sua cartella. Una volta fatto non ci serve più epic games puoi chiuderlo. Andiamo in fortnite game binanis o 64 e entra così nella cartella dell'easy anti cheat. Ovviamente possiamo prima se hai questa cartella dell'easy anti cheat rimuovi questa cartella. Svuota anche il cestino. Ritorno un attimo su epic games. Faccio così la verifica a fortnite per ripristinare così quella cartella e poi procediamo all'installazione dell'easy anti cheat. E faccio la verifica. Una volta verificato entriamo nella cartella di video. Forse faccio la rauschetta di fortnite. Easy anti cheat. Evil epic games. Ed eccolo qua. Tasto destro sopra. Mont zakentro opzioni. Crea un collegamento. Ora. Rinomina così questo collegamento. cancella il trattino e il collegamento ora andiamo un attimo sulla pagina qui dice nella casella destinazione dove il testo già esistente inserisci install prod fn quindi prendo install prod fn senza le virgolette quindi la parte finale del testo dovrebbe risultare easy anti cheat quindi in questo caso vicino a easy anti cheat teosetup.exe mi raccomando sul collegamento bisogna farlo rinomina e puoi metterlo a fianco e fai invio mostrate opzioni proprietà oppure lo puoi mettere anche qua e fai applica e fai ok una volta fatto ci clicchi sopra come puoi vedere ho installato l'easy anti cheat mi è uscito anche il comando del cmd e me l'ha fatto anche eseguire come amministratore se non dovesse funzionare fai di nuovo esegui come amministratore e lo installi quindi controlla che il launch dell'easy anti cheat sia chiuso ovviamente vai direttamente sul tasto start vai in gestione attività vai su dettagli scendi fino a giù fino a trovare l'easy anti cheat se qua dentro c'è l'easy anti cheat devi terminare l'attività quindi devi fare tasto destro su l'easy anti cheat quindi per esempio tasto destro sopra termina attività quando in windows appare il prompt di installazione dell'easy anti cheat fai clic su sì in questo caso se ti esce l'errore così easy anti cheat non installato e ti esce tipo un prompt di installazione tu fai clicca su sì che sarebbe lo esegui come amministratore come ti ho fatto vedere quindi fai su sì e te lo installa automaticamente in pochi secondi quindi il metodo di Epic Games era questo ti ho anche spiegato come fare puoi anche chiudere questa cartella se non dovesse funzionare puoi sempre chiedere assistenza a Epic Games andando su contattaci ed eccola qua piattaforma metti pc portrait protezione scatti i nostri programmi di caricatori segnala connessione prestazioni o codici di errore il mio eac non è installato su fortnite e sul mio computer come risolvo seleziona così il file inserisci così l'immagine dell'errore e fai apri ed eccolo qua ovviamente ho chiesto anche in passato alcune richieste qua mi hanno anche risposto e mi hanno anche aiutato a risolvere un mio problema invia una richiesta per email o ti risponderanno entro 30 minuti un'ora oppure 12 ore bisogna solamente aspettare quindi se non hai capito la parte dove io inserisco così la scritta sul collegamento ti consiglio di riguardare la guida quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video se no in questo caso puoi semplicemente reinstallare fortnite e poi inserire quella scritta sul collegamento cliccarci sopra facendo uscire fuori il prompt dei comandi e ti installa automaticamente l'easyandc quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti